Avvocato Paolo Prato, rieletto alla guida di Ape Confedilizia della provincia di Imperia. Insomma è un cammino senza soluzione di continuità, immagino si tratti di proseguire nell'impegno già preso. Sì, certamente. Ieri sera alle 17.30 si è svolta l'Assemblea Generale Annuale di Confedilizia nel quale è stato rinnovato il direttivo per gli anni 2021-2022. Quindi la stessa squadra è stata rinnovata. Subito ho ringraziato il direttivo per l'impegno profuso e per il lavoro svolto in quanto in soli due anni siamo riusciti a raggiungere l'importante risultato di 650 nuovi soci. Come sai, Confedilizia si occupa della salvaguardia dei diritti dei proprietari case, della proprietà e della tutela dei condomini e dei condomini in generale. Le prime iniziative per il secondo biennio sono la realizzazione di un corso online a livello regionale molto importante per l'aggiornamento degli amministratori di condominio che fanno parte di Confedilizia Imperia e che ormai sono circa una cinquantina. Ancora l'obiettivo, il secondo diciamo in termini di importanza ma sempre primario, è dare agli associati la più ampia consulenza in materia di super bonus per poi consentire di non perdere l'occasione dei benefici relativi.